Rappina la cava di Barbusi. Hanno legato i dipendenti della cava Locci e portato via due mezzi, probabilmente per tentare un assalto ad un portavalori. Un commando di sei banditi ha fatto eruzione nella cava questa mattina. Gli operai sono rimasti lesi. Prosegue la protesta dei lavoratori in utilizzo. Stamane a Carboni alcuni operai sono saliti sul tetto della sala consigliare. Rabbia ed esasperazione per le mancate risposte delle istituzioni. La Regione affronta il problema del sistema ADI. Un ordine del giorno presentato dal consigliere Ignazio Locci e sottoscritto dall'intero gruppo di Forza Italia per chiedere alla Giunta di avviare azioni urgenti al fine di ripristinare il sistema organizzativo. Il cara di Elmas chiude i battenti. Dopo anni di proteste per la posizione poco favorevole, il centro di prima accoglienza chiude. Ieri trasferiti i primi profughi a Quarto e Capoterra. L'ex prefetto, pericoloso tenere la struttura accanto all'aeroporto. Ben ritrovati all'appuntamento con informazione su Canale 40. L'avete sentito dai titoli di apertura. Hanno legato i dipendenti della Cavaloci di Barbusi e portato via un camion ed un altro mezzo. Probabilmente per tentare un assalto ad un portavalori. Sentiamo il servizio a cura di Francesca Rius. Hanno legato i dipendenti della Cavaloci di Barbusi e portato via un camion e un altro mezzo. Probabilmente per tentare un assalto a un portavalori. Un comando di banditi, composto da 5 o 6 persone, ha fatto irruzione nella cava sorprendendo gli operai. I malviventi hanno legato tutti, circa 10, forse 15 persone, e si sono allontanate a bordo di un grosso camion e di un altro mezzo di proprietà dell'azienda. I banditi hanno poi abbandonato il camion sul cavalcavia della Provinciale 2, non distante dalla cava, e sono fuggiti a bordo di un altro mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Carbonia e del Comando Provinciale di Cagliari, che hanno avviato le ricerche dei rapinatori. Secondo gli inquirenti, con buona probabilità, il comando voleva utilizzare il camion per bloccare una strada e assaltare così il portavalori o portare a termine un altro colpo. In tutta la zona, intanto, vanno avanti i posti di blocco, i controlli, anche aerei. Prosegue la protesta dei lavoratori in utilizzo. Stamane a Carbonia alcuni operai sono saliti sul tetto della sala consigliare. Rabbia e desasperazione per le mancate risposte da parte delle istituzioni. Siamo ai piedi della Torre Littoria, in piazza Roma a Carbonia, dove ci sono i lavoratori in utilizzo che stanno protestando, proprio di fronte al Palazzo del Consiglio Comunale. Alcuni lavoratori hanno occupato la torre, altri sono saliti sul tetto, dove stanno posizionando un manifesto con su scritto lavoratori in utilizzo. Giorgio Angioni, uno dei lavoratori in utilizzo, siete per l'ennesima volta in piazza per protestare. Motivo della protesta? La nostra fu riuscita momentanea dal comune di Carbonia, perché abbiamo dei contratti a tempo determinato. L'ultimo durava quattro mesi ed è scaduto il 19 ottobre. La provincia ha rimesso dei soldi in gioco, quindi noi dovevamo uscire il 19 ottobre e rientrare dopo circa dieci giorni. Invece siamo già fino a novembre, il comune si è inventato non so cosa e continuiamo ad aspettare. Adesso siamo in Aspi, quindi in disoccupazione, però ci scade il mese prossimo. Quindi oggi cosa state intraprendendo qui in piazza Roma? Chiamino subito a lavoro, perché se entro il 31 dicembre noi non rientriamo, usciamo definitivamente fuori dai progetti finanziati dalla regione Sardegna. E oggi qui cosa state intraprendendo come manifestazione? Dobbiamo praticamente mettere lo striscione operai in utilizzo proprio di fronte al comune, in modo che il comune si accorga, anche se se ne è accorto già da tempo, e si è indispettito. Perché ieri eravamo in piazza, hanno visto lo striscione e visto il periodo pre-elettorale, sicuramente diamo fastidio. Però non prendono nessun tipo di... niente, ci lasciano così, come se niente fosse. Sembra che si siano abituati alla nostra presenza. Pensate di manifestare ad oltranza fin quando non avrete i vostri diritti? Sino a quando non ci chiamano noi continueremo a stare qua, perché arrivati al 31 noi perdiamo tutto, la regione non finanzia più, quindi ci stiamo giocando non solo l'ultimo mese del 2015, ma anche l'inizio del 2016, perché una volta che salta tutto non abbiamo più speranze e non possiamo continuare. Il Consiglio regionale deve urgentemente affrontare la spinosa vicenda del riordino del sistema ADI di terzo livello della ASL 7, che vede contrapposti pazienti e familiari da una parte e dirigenza ASL dall'altra. Così il consigliere regionale di Forza Italia, Agnazio Locci, interviene sull'argomento. Il Consiglio regionale deve urgentemente affrontare la spinosa vicenda del riordino del sistema ADI di terzo livello della ASL 7, che vede contrapposti pazienti e familiari da una parte e dirigenza ASL dall'altra. Così il consigliere regionale di Forza Italia, Agnazio Locci, interviene sull'argomento. Una vicenda che sta conoscendo pagine drammatiche, con circa 13 assistiti che da oltre una settimana portano avanti lo sciopero della fame al 100%. Per questo, scrive Locci, ho presentato un ordine del giorno, sottoscritto dall'intero gruppo di Forza Italia, per chiedere all'Aggiunta regionale di avviare azioni urgenti al fine di procedere al ripristino del sistema organizzativo precedente alla deliberazione del 16 ottobre. Obiettivo? Fare in modo che gli assistiti possano restare nelle proprie abitazioni circondati dall'affetto dei propri cari, così come vuole lo spirito dell'ADI, mantenendo un filo diretto con il reparto di rianimazione. Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, prosegue il coordinatore provinciale di Forza Italia, deve avvenire in maniera graduale con il coinvolgimento dei pazienti e delle loro famiglie in un rapporto diretto con il reparto di rianimazione dell'ospedale Sirai. Proposta sostenuta anche dallo stesso assessore Luigi Arru, ma ad oggi nulla di quanto stabilito è stato fatto, conclude il consigliere, mentre i pazienti proseguono nel loro drammatico sciopero della fame. Sono stati trasferiti ieri gli oltre 180 profughi, ospiti del centro di prima accoglienza Cara di Elmas, che a fine mese chiuderà i battenti. Sono stati trasferiti ieri gli oltre 180 profughi, ospiti del centro di prima accoglienza Alcara di Elmas, che a fine mese chiuderà i battenti. Sono stati trasferiti 28 migranti, tutti richiedenti asilo, a bordo di un furgoncino a gruppi di sei, sono stati fatti uscire dal centro e portati in altre strutture di accoglienza, alcuni a quarto, altre a capoterra. Il trasferimento sarà diluito nel corso di tutto il mese, hanno fatto sapere dalla Prefettura, quando tutta l'operazione sarà conclusa, si legge sull'Ansa. La gran parte dei migranti sarà trasferita entro il 16 dicembre. Da quanto si è appreso, i 28 trasferiti ieri mattina hanno accolto con entusiasmo lo spostamento in altre località dove avranno probabilmente più libertà di movimento. La chiusura del cara di Elmas arriva dopo anni di polemiche per la sua posizione a ridosso dell'aeroporto. In più di un'occasione i migranti erano infatti usciti dal centro e avevano invaso anche le piste dello scalo, innescando ritardi nei voli e disagi ai passeggeri. Lo stesso ex questore di Cagliari, di Spenza, era intervenuto sul tema, segnalando quanto fosse importante trasferire al più presto la struttura. Si era pensato alla scuola di polizia penitenziaria di Monastir, ma dopo le proteste dei sindacati tutto è stato congelato. E ora, tra i problemi, c'è quello dei dipendenti del Consorzio di Cooperativa a Casa di Solidarietà che gestirà sino a fine dicembre il cara di Elmas. Ci sono più di 40 operatori sardi a rischio, dice il segretario regionale della CGL, Giorgio Pintus, impegnato nell'avvertenza insieme alla CISL Fisacat. Ieri mattina abbiamo incontrato la direzione del cara di Elmas che ha prospettato la disponibilità del Consorzio a utilizzare i lavoratori nei propri servizi di Roma e del Lazio. Il Comune di Carbonia ha pubblicato la graduatoria generale provvisoria per l'assegnazione degli alloggi popolari Bando 2014-2015. Le graduatorie sono consultabili presso l'albo Pretorio online e nella sezione Bandi e Concorsi, Esiti, Convocazione, Graduatori e Bandi del sito www.comune.carbonia.ci.it e presso gli uffici di area di Carbonia. Entro 60 giorni dalla data della pubblicazione gli interessati possono presentare un'opposizione motivata indirizzata alla Commissione Tecnica Comunale ERP Ufficio Politiche della Casa Piazza Roma 1 Carbonia. Si rende noto che la biblioteca e la Mediateca di Viale Arsa a Carbonia le biblioteche di Cortoghiana, Barbusi e Isgan House e la sezione di storia locale presso la Grande Miniera di Serbariu il 7 dicembre saranno chiuse al pubblico. Il servizio riprenderà normalmente mercoledì 9 dicembre. Prenderanno i via a Carbonia il 4 dicembre i festeggiamenti per Santa Barbara, patrona della città mineraria. Abbiamo chiesto ad una milcare gambella, parroco di San Ponziano quale sarà il programma delle celebrazioni. Sentiamo. A Carbonia si appresta a festeggiare la sua patrona. Ci siamo con la festa di Santa Barbara. Da qualche anno lo sappiamo che per la crisi è una festa non dico in tono minore ma si privilegia più l'aspetto religioso e spirituale e l'aspetto donativo di generosità. Come sempre partirà la processione dalla Chiesa a San Ponziano insieme ai sacerdoti della città, questo alle ore 16. Faremo una tappa presso i vigili del fuoco per la preghiera e la benedizione e quindi arriveremo alla grande miniera di Serbariu. Il sindaco offrirà una corona, la metterà alla croce che c'è all'entrata della grande miniera per ricordare i nostri defunti, proprio i caduti nella miniera. Quindi entreremo all'interno dove nella grande sala celebreremo e concelebreremo la Santa Messa in onore di Santa Barbara. Terminata la Messa rientreremo alla Chiesa a San Ponziano, questa volta in macchina non più a piedi come gli altri anni perché ci sono state delle richieste i sacerdoti sono venuti incontro a questo la confraternita non era molto contenta perché avevano faticato molto per mettere questa tradizione e vediamo come andrà. Il sindaco ha promesso il pulma per le persone che non hanno macchina perché la processione si snoderà ugualmente ma questa volta in macchina. Santa Barbara ci protegge come sempre ma soprattutto invochiamola perché molti possano recuperare il lavoro. Il ricordo di Santa Barbara, il pensiero a Santa Barbara serva per risvegliare in ciascuno di noi gli impegni della coerenza soprattutto della coerenza cristiana. Il comune di Masainas in collaborazione con la Proloco Masainas organizza l'evento Prepara l'albero di Natale Ecologico giunto alla sua terza edizione. L'appuntamento è fissato al 20 dicembre alle 15.30 per allestire l'albero che sarà posizionato in piazza Belvedere a Masainas. Verranno coinvolti nel progetto i bambini della scuola primaria e della scuola elementare di Masainas. Ma quest'anno tutti potranno collaborare con il loro riciclo creativo all'allestimento dell'albero. E con questa notizia è tutto. Vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni e adesso vi lascio con le previsioni meteo e con il TG in Sardo Noa Sincurzu. Previsioni per domani mercoledì 2 dicembre, previste nubi sparse. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da nord e nord ovest con intensità di 4 km orari. Possibili raffiche fino a 16 km orari. Temperature minime comprese tra 8 e 12 gradi e massime comprese tra 14 e 17 gradi.